Palla giocata su Figu, Dinesi in vantaggio contro il Treviso, intanto i nostri prossimi avversari, Saverio va da solo, mette la freccia al capitano, va da solo, si allarga, attenzione, entra in area, può andare sul fondo e cross, Andri, a gol, 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 l'assist del capitano, l'imperatore, e sono due, questo gol lo segnavamo anche Scalzi, diciamolo, ma la grande azione, il velo di Oba che forse addirittura ha cercato di tacco, di mettere il pallone in rete, mancandolo, diventa un regalo, vediamo, vedete che cerca il copo di tacco, lo manca, a porta vuota, Adri, la spiattona dentro, il gol del 2-0, Inter che mette subito al sicuro il match, come meglio non si può avere, ma l'atteggiamento della squadra è diverso da quello onestamente che abbiamo visto, sia a Siena, sia contro il Parma, tanto c'è un fallo su Figo, non sanzionato, e si riparte ancora con il Cagliari che attacca sulla destra con Vega.